Un grande successo di presenze al di là delle aspettative e un grande successo anche nella logistica. I servizi di trasporto funzionano, non ci sono congestioni di traffico che si temevano, i treni sono puntuali, all'85% il tasso di puntualità molto alto e i servizi funzionano. E anche i presidi ospedalieri sanitari che abbiamo allestito con tre punti dentro Expo stanno funzionando benissimo a dimostrazione che il servizio funziona ed è affidabile, quindi sono molto soddisfatto per questo.